L'Aerone è una creatura speciale, il simbolo della capacità di vivere tra cielo e terra. Un ponte tra mondi diversi, una continua evoluzione, armonioso e forte, equilibrato ma portato al cambiamento. L'Aerone in volo davanti al sole, in continuità con la nostra storia, è oggi più che mai il nostro simbolo. Rivisitato nelle forme, rinnovato nei colori, ma ancora più determinato nel suo significato. Il nostro nuovo logo ci accompagnerà verso il domani, unito a tre valori fondamentali. Persone, perché i nostri soci e i nostri lavoratori sono il centro di ogni nostra azione. Ambiente, perché il nostro obiettivo è proteggere e migliorare il nostro mondo. Futuro, perché lo vogliamo vivibile e sostenibile per le prossime generazioni. Perché è nel futuro che vola l'Aerone. Perché è nel futuro che sta andando Ideal Service. Ideal Service Persone, Ambiente, Futuro